È un'iniziativa sportiva e culturale alla quale la WISP, essendo un'associazione che si occupa di sport, contribuisce con il proprio know-how nel settore del benessere e della motricità, perché in questo tipo di manifestazione non parliamo di sport, parliamo di attività motoria, quindi attraverso un'attività motoria facciamo il benessere delle persone, quindi cerchiamo di far muovere le persone che magari volontariamente non lo farebbero ma magari socializzando e aggregandosi a gruppi precostituiti e guidati possono dedicarsi al proprio benessere attraverso l'attività motoria. La WISP guiderà i gruppi, controllerà i gruppi, si assicurerà che tutto si svolga nel miglior modo possibile, senza incidenti, tenendo conto che abbiamo persone eterogenee e quindi con capacità e possibilità diverse nel campo della motorietà e quindi dovremo adeguare di volta in volta sia il passo con cui ci si muove attraverso questi percorsi in modo che nessuno rimanga indietro, nessuno si senta non adeguato, ma anzi alla fine della camminata possa sentirsi forse più in grado di come si era approcciato.